E' delicata la situazione al comune di Atessa, comune passato dalla zona rossa in febbraio, poi Arancione rischia di tornare in zona rossa. Sindaco Giulio Borrelli. Sì, siamo stati tra i primi comuni abruzzesi ad entrare in zona rossa, abbiamo fatto poi uno screening di tutta la popolazione, intesa naturalmente con la ASL, molto riuscito, con un grande spirito di consapevolezza e di partecipazione, gran parte della popolazione ha effettuato lo screening. Dopo lo screening siamo tornati in una zona abbastanza tranquilla, nell'ultima settimana purtroppo i nuovi casi sono 56 e sono complessivamente aumentati e la situazione ci preoccupa soprattutto perché con questi indici a livello comunale, se raffrontati a quelli che sono i nuovi parametri nazionali, quelli stabiliti dal Governo nazionale, siamo per così dire in rosso draghi, in rosso rafforzato. Cosa pensa di fare? Bene, intanto per quello che attiene alla responsabilità del Comune abbiamo chiuso tutte le scuole dell'infanzia e gli asili nido che come si sa erano in presenza. Naturalmente non basta questa misura, noi viviamo nella zona industriale più importante d'Abruzzo, qui ci sono fabbriche, fabbriche molto importanti per la produzione regionale e nazionale, c'è un via vai di persone che vengono anche da altre parti, che non riguarda naturalmente solo la situazione interna, riguarda i trasporti e quindi va monitorato un po' tutto il territorio, tenuto conto che noi siamo la più importante zona industriale. San Giovanni Teatino è la più importante zona commerciale, è evidente che in queste realtà ci sono dei fenomeni particolari che andrebbero ulteriormente studiati e approfonditi. Cosa che stiamo pensando e studiando di fare insieme con il Prefetto e con l'ASL, ma la strada maestra rimane quella dei vaccini, vaccinare i vaccinali più possibili, rispettando naturalmente l'ordine di priorità delle categorie a rischio, ma sapendo che oggi il nostro Comune è uno di quelli più a rischio di tutta la Regione a rischio contagio.